Ok, bene, ad cani scazzum si La morte più totale Voglio 75.000 mi piace in questo momento Non avevo mai sclerato così tanto in questa serie Siete i batussi, siete i batussi E non mi chiappate Scheletro di me che tu sia maledetto Bene ragazzi, quest'ep mi è bentornati nel nono episodio della serie di The Highlands of Junara Ho scoperto che nell'ultimo episodio abbiamo perso la chest con il looting 10 È una tragedia Però non dobbiamo demordere anche perché ho visto il vostro sostegno Ed oltre 46.000 mi piace anche nell'episodio di domenica hanno fatto detonare tutto Come ogni settimana la sfida è rinnovata Se questo episodio raggiunge 50.000 mi piace Anche questa settimana doppio episodio Dovremo visitare un po' di isolette come l'ultima volta Sperando però di non fare dei fail allucinanti come appunto è già capitato Non perdiamo altro tempo, let's go Guardate quante sono carino e coccoloso in cima alla mia casetta Ho risistemato un po' i ponti Ho creato un ponte che si avvicina all'isola del Nether barra End Perché più avanti c'è anche quella del Wither In realtà solo per defistarvi perché andremo dalla parte opposta Andremo di qua dove ci sono i cottage Dove i peggio mostri organizzavano le feste alle mie spalle senza invitarmi Ma prima andremo là sotto perché mi ero completamente dimenticato che ci fosse una struttura O almeno chiamiamola la struttura di un dungeon Me ne sono reso conto costruendo quel ponte che va fino in fondo all'isola Ho detto oh cavolo ma qua non ci siamo passati Di solito se non erro passavamo sempre dalla parte opposta Cioè proprio abusivamente dalla montagna Oh mio dio capisco il motivo adesso Capisco il motivo adesso perché l'hai fatto Tu sei completamente pazzo step Sei morto? Sei morto? Sto cercando di capire se ho un modo di salvarmi Se io faccio back to game e premo il tasto numero 6 Teoricamente mi dà in mano il secchio d'acqua E potrei salvarmi forse no L'acqua è partita no Questo vuol dire che mi risucchia tutte le cose Carissimi amici avete presente quando un video può iniziare male? Ecco questo è il modo Veloce fatti immediatamente la mela d'oro Mela d'oro che dovrà salvarti O almeno darti la possibilità di non morire subito Ti può essere così deficiente? Ho pure detto nella premessa che non volevo fare fail Oh ma lì ci sono due smeraldi Dopo dobbiamo andare a prenderli Augurandosi che nessuno li abbia raccolte Eccoci qua Salve Di la verità non ricordo mai di aver affrontato questa zona Aspetta che me ne vado di qui un secondo Sicuramente non c'è tutto Però già avere l'armatura a portata di mano è un'ottima notizia Occhio a questi mostriciattoli piccolini che fanno un danno atroce Ok bene Step non ci siamo proprio eh Oh se non ci siamo Doe pensi di andare in questo modo? Sei morto due volte in un minuto di partita Sto giocando un po' a cazzo di cane Ad canis cazzo Sì Ho tirato la ender perché ha fatto esplodere tutte le cose da questo lato Per fortuna più o meno E dovrei aver capito che è abbastanza tosta da affrontare Adesso che hai perso tutto Non hai manco più la spada Come fai a spaccare ogni coi band di Dio? Fai con calma Prima che spariscano gli oggetti E sta per accadere Ve lo garantisco Proviamo a scavare da dietro No I cignacoli della morte pure dietro Ma che cazzo è? Mi auguro vivamente che qualcuno qui stia scherzando con il sottoscritto Perché sono morto più volte in questi due minuti di episodio Che in tutta la serie Saltano addosso come formiche Ora capite perché odio tantissimo i piccignacoli? Per questo motivo No devo combattere a mani nude Stai scherzando? No 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 Oh mio Dio come faccio? Sono morto di nuovo Oddio no no A mali estremi estremi rimedi Va vada va via il Q va Veloce che si scompare la spada bestemmio per sei anni Lancio lungo e pedalare Wow Un buon metodo per risparmiare tempo Però bisogna stare attenti a ciò che si fa Calma Devrebbe esserci un piccoletto qua vicino Guarda da dove nascono da lì Oh mio Dio quanto danno Un colpo Mi ha dato un colpo Paura paurissima 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 Non mi toccare Non toccarmi schifoso Avete visto cosa sono in grado di fare Sti piccignacoli? Ho bisogno di bloccare quel muro Adesso Keep calm step Sei messo veramente male Ho bisogno di recuperare quelle mele d'oro Che sono là sotto E soprattutto la mia spada e il mio piccone Piccone ripreso E questo è già qualcosa Mela d'oro mangiala In qualche modo dobbiamo arrivargli da dietro Qua dietro c'è sicuramente uno spawner di questi schifosi Io oggi pensavo di fare un video tranquillo Ho detto vabbè Esploriamo un po' di isola Che vuoi che succederà mai? La morte è più totale E poi qua sotto non c'ero mai stato in realtà Ero sempre passato da un'altra parte Vicignacolo No E no vabbè Allora ce l'avete con me Ma seriamente Occhio a ciò che fai Boom Uno spawner rotto No Hai aperto i piccignacoli Sei pazzo Sei completamente fuori Ti sei levuto il cervello Guarda quanti cazzo sono qua sotto Prima o poi doveva arrivare Un episodio dove fallivamo completamente Io lo sapevo Il piccone potrei prenderlo anche qua Ci sta tantissimo Comparsimonia Ender chest qui Scendi giù Prendi gli oggetti E riblocca di nuovo là sotto No 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 Ma lo consulterò Ha la mia spada Se lui ha la mia spada Come cazzo lo uccido? This is madness Non c'è niente da fare Questa è pazzia pura Io non ho niente per uccidere quello scheletro Spiegatemi come fare A mani nude non morirà mai All'armatura di diamante L'unica è scendere Prendere la zucca al volo E provare a picchiarlo Che ci devo fare? È morto Oddio Ho perso i pantaloni Ma chi se ne frega Aver recuperato questa roba È già qualcosa Fidatevi di me Non riescono a salire Ottima notizia Arrivano da sopra Infiltrati che non siete altro Vergognatevi Potete evitare di nascermi addosso? Grazie Che gentili che siete Adesso andremo di arco Da qua No me l'ho buttato di sotto Me l'ho buttato di sotto Avete visto? Avete visto? Tornate sul step Oddio il salvataggio Epico Questo arco ha power 50.000 Perché non muoiono? Una cosa è certa Se mi butto Non ottengo niente Eccoci Sono caduto Sono caduto in mezzo a loro Ma è possibile? Ma è possibile sta cosa? Come fate a prendermi? È schifosi Oddio l'esplosione di un creeper Aia non ci voleva O forse ci voleva O sì che ci voleva Spacca tutto Sono rinati Sono rinati Sono rinati Aiaiaiaia Non bene Non bene In che pastrocchio ti sei messo Step? Manco tutto ne rendi conto Vero? L'ultimo Non mi avrai Te lo garantisco Che morirai prima Maledetto Non ce la faccio a gestirli Entrambi Sono troppo potenti Lontano da me Lontano No È partita la ender pearl Spacco tutto Ve lo giuro Non avevo mai sclerato Così tanto in questa serie Di questo nuovo ritorno Su The Island of Junara Rinascono troppo in fretta Vai ora Vai ora Vai così No È morto Bene Se Dio vuole Siete gli ultimi due Si è rotta la spada, si è rotta la spada in mano, non ci posso prezzare Molto bene, calmi, solo gli zombie normali adesso Che bello, chiudi sopra, chiudi, 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 si, si, si Ce l'abbiamo fatta, ho perso tutto Perché sono sceso qua sotto, eh? Per uno stick, uno stick per comandarli tutti Sinceramente non so se ne valsa la pena, ma ormai non si può più tornare indietro Power 5 flame 3, in compenso abbiamo guadagnato un ottimo arco Ah, c'è anche un pesce Questa gita fuori casa ci ha insegnato che bisogna stare molto attenti Ok, si può tornare a... Non è possibile, ma è un incubo Dove sono i vostri spawn? Non ce la facciamo, cioè, muoio qua dietro, me lo sento Ah, finalmente, schifoso di uno spawn E un altro pure qua Ora che abbiamo perso tutto, mi sa che possiamo tornarcene a casa Ripensandoci bene, forse era meglio se fossimo andati di là, eh? Sarebbe stato molto, molto meglio Guardate il lato positivo, abbiamo 14 smeraldi Questo significa che possiamo mettere un blocco nel nostro monumento Pipidi, pipidi, boom! Ne mancano solamente tre Se penso abbiamo fatto tutto questo per un pesce e un arco, mi vengono i prividi Considerando ciò che è successo, possiamo anche andare avanti Però mi dovevo fare un secchio, me ne sono scordato Aspetta, va, già che ci siamo Prendo questi smeraldi Solamente due, nonostante io abbia utilizzato fortuna Brutti tirchi Allora... Oh! Ma che cazzo? Aiuto! Scheletro di mea che tu sia maledetto! Oh! Non è tutto! Oh mio Dio! Oh mio Dio, cosa ho fatto? Rendetevi conto di che cosa è appena accaduto No, 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 io voglio 75.000 mi piace in questo momento Mamma mia, che cosa abbiamo fatto? Partiamo dal presupposto che avrei dovuto usare immediatamente la Ender Per appena ero nell'acqua Non l'ho fatto, però mi sono salvato un secondo dopo Ragazzi, no, questo video voglio il 75.000 mi piace Ne stanno succedendo di tutti i colori Abbiamo avuto culo finora, ma ora sta andando veramente di merda Quaggiù dobbiamo scendere il prima possibile Aspetta che mangio, eh? Ma meno male che avevo la Ender per la portata di mano Altrimenti sarebbe stato tutto vano C'è mancato veramente un pelo a perdere tutto, eh? Perché morire sulla terraferma è un conto Ma morire nel vuoto è la cosa più frustrante che c'è Perché perdi ogni singolo progresso che hai fatto fino ad ora Mi merito un premio per il salvataggio, assolutamente Collegamento fatto Fammi mettere un po' di torcine E diamo un'esplorata anche a quest'isola Sicuramente, esatto Ci sarà già la festa come l'altra volta E a nessuno mi ha invitato Quelli del Wither non me li ricordavo, sai? Ah, non potete uscire, siete troppo alti Siete i vatussi, siete i vatussi E non mi chiappate Ogni tre passi, ogni tre passi Beccate due spadate Eccoci Ora mi sa che passano però Eh sì, adesso ci passano Ma gli scherzi del Wither muoiono al sole Bruci? No, ma lui non brucia Mi ha truppato una spada One hit, one kill Power sword si chiama Fa vedere se funziona Proviamo! Bebeo! Oddio! La spada che shotta in un colpo solo Due smeraldini Questi ce li insaccocciamo Aspetta che metto un po' di roba Aia! Ma dove sei arrivato tu? Gli spawn nascosti nella bedrock Questa è un'infamata Mi stanno succedendo veramente di tutti i colori Ragazzi, sono in iperventilazione Qui in cima Non c'è niente Un giardino Che cazzo me ne faccio di un giardino? No, c'è una cesta sul tetto L'ho appena vista Niente scheletri Grazie Vai cos... Apri, grazie Ender pearl che ho speso fino ad ora Facciamo un bel refill di ender pearl Due diamond Il resto un po' inutile Scherzavo L'iron mi serve per rifarmi l'acqua Sì, insomma Per rifarmi il secchio dell'acqua Siamo riusciti ad affrontare anche questa casa Adesso dobbiamo andare avanti In quest'altra Ho della legna Meno male Nella legna faccio così Così mi creo una bacca Altra cesta con altro oro Questi vabbè Li uso in caso appunto di morti Per rifare le mele dorate Che non so se vi siete resi conto Che era difficile entrare in quella stanza Con le mele dorate Ecco perché Sottolineiamola questa cosa C'è un'altra cesta in cima E non mi sfuggirà assolutamente Vieni qua Delle blades rod Le blades rod io le prendo Perché potrebbero essere utili Per l'attivazione del portale del land Non so se esiste questo fantomatico portale Però la speranza è l'ultima a morire Artifact yawl blade È un'altra spada Possiamo solo che prenderla E portarcela con Noi In realtà era una trappola secondo me Per questo slime schifoso Non ricordavo gli slime facessero così tanto male Va bene la vostra ciccettina Sarà il mio premio Ciao piccignetto Non muore Cioè lui non muore Lo scheletro del guider muore Non ha molto senso questa cosa Sto morendo Va bene lo ammetto Ho paura a scendere all'interno di quest'isola Perché non so che cosa mi aspetti Però Non posso neanche tirarmi indietro No Che ne pensate Solo un giro veloce di ricognizione E già non mi piace Perché è bucata Quest'isola Si va nel vuoto No 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 me ne vado Me ne vado Ma fidatevi Secondo me non c'è niente È solo un tranello Per farci morire Aia aia Non voglio che esploda Questa stanza per esempio Sento dei rumori In questa stanza C'è sicuramente qualcosa Sento la lava No 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 Questa è pazzia Il vuoto sotto i nostri piedi Diamo uno strato di sicurezza Così se esplode tutto Noi ci salviamo Dobbiamo andare avanti Perché sento dei rumori famelici Strano che non c'è Mai scavarsi sopra la testa È una delle prime regole Tutte le volte era in frango Io non faccio per dire Non so se vi siete resi conto Quanto danno faccia il mob normale In questa mappa È tipo quintuplicato Rispetto agli altri mob Dei mostri normali Insomma Permesso? Posso entrare? Ma sì che posso entrare Cosa c'è? Del diamante A sto punto del gioco Per me è abbastanza inutile Il diamante Ma un regalo Non si rifiuta mai E basta Non c'è più nulla Torniamocene a casa Prima che sia troppo tardi Via step Datte la gambe Che quest'isola Sta già pulizzulando di zombie Fiero del tuo salvataggio epico Sarà bene che torni a casa In tutta velocità Ho approfittato Di tornare a casa Per mettere anche Un ulteriore blocco di smeraldo Cosicché adesso Mancano solamente Due blocchi all'appello Due blocchi di smeraldo Che mi auguro di trovare Prima possibile Così poi sarò tranquillo Nel visitare tutte le isolette Ragazzi spero che questo Non è più stato Vi sia piaciuto Se volete Il secondo episodio Mi raccomando 50.000 cacce O 75.000 Per il super epic Mega Salvataggio Se vi è piaciuto Spolliciate Commentate Commentate Secondo il nostro Spiegato Ci vediamo A prossimo video Questa Mamma mia Grazie a tutti Grazie a tutti